La fine dell'Isis, il ritorno dei Korean fighters, lei ha parlato di una minaccia diffusa per il nostro paese. Una minaccia che purtroppo è anche indefinita, molto liquida e quindi anche estremamente complicata da intercettare, però come vado ripetendo da tempo questo non deve indurci a un clima e a una condizione di paura. Lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni credo che sia sotto gli occhi di tutti. La consapevolezza e anche la capacità di affrontare in maniera corretta le sfide che abbiamo davanti. Credo che dobbiamo avere la consapevolezza di avere forze di polizia e un sistema di intelligence che fino ad oggi ha dato risultati importanti. Ma come ci ha ricordato oggi il Ministro, mai dire mai, nella consapevolezza che tutti noi però stiamo lavorando perché il mai sia quanto più a lungo proposto. Anche le ultime operazioni ci sono...